Un concerto di elevato spessore e caratura internazionale, il nuovo anno si apre all'insegna della musica prestigiosa di Ariano Iorpino, grazie all'ormai collaudata rassegna classica ariano ideata da Emerico Maria Mazza e l'orchestra da Camera di Stato del Kazakistan con al pianoforte il giovane arianese Antonio Gomena ad incantare il folto pubblico di Palazzo Forte. E' una delle più importanti orchestre, sicuramente la principale orchestra del Kazakistan che è uno stato che presenta una tradizione musicale elevatissima ed è una delle orchestre veramente più apprezzate a livello internazionale e la cosa di cui mi pregio e sono orgoglioso sarà al pianoforte solista il nostro Antonio Gomena, il nostro Antonio Gomena che è un giovane dalle doti straordinarie che è già importantissimo a livello nazionale e anche a livello internazionale e che sicuramente sarà l'orgoglio della nostra città di qui a venire. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.